Mi chiamo Alessandra Cecchinato, ho 49 anni da pochi giorni e dal 2013 ho avuto dei problemi, praticamente frenavo con il piede e così mi hanno consigliato di andare dalla neurologa e ha diagnosticato che ho la malattia del Parkinson. Io lavoro in una casa di riposo come operatore sociosanitario. Io ho sempre fatto danza classica, facevo aerobica, nuoto. Dopo con il Parkinson mi sono un po' fermata. Io sono il compagno di Alessandra e convivo con lei e quindi questa cosa la gestiamo tra virgolette assieme nel senso che quotidianamente si convive anche con questa patologia. Ho scoperto gondola tramite la dottoressa Ravenni che mi aveva detto che c'era questa macchina fisioterapica. mi sono documentata in internet e ho ascoltato le interviste del dottor Stocchi e devo dire che all'inizio ero un po' scettica, però dopo mi ha convinto guardando queste interviste. Mi ha convinto di più il mio compagno. Essendo una cosa nuova, non avevo molto confronto perché ovviamente non è una cosa innovativa, però io, come ripeto, sono molto intuitivo e ho detto che per me è una cosa da provare e da fare. Ho parlato con la dottoressa Ravenni e lei mi ha detto sì, so che il costo è un po' elevato, però sono efficaci. Gondola mi ha cambiato la vita in questi ultimi tempi, insomma che comunque avevo il passo rallentato, quando mi giravo rischiavo di cadere e la mia sensazione è quella di volare. Proprio sento che il passo è più leggero e poi la cosa che mi diverte è guardarmi le punte dei piedi, nel senso che quando cammino le vedo, mentre prima il mio passo era molto rallentato e diciamo che non le vedevo. Quando ho fatto gondola la prima volta sinceramente, anche il mio compagno mi diceva come ti senti, ma sinceramente non mi sembrava, però lui si è accorto in effetti che camminavo meglio e anche quando a livello di rotazione ruotavo senza bilanciamenti, insomma. Mentre la seconda volta che ho provato, fatalità, avevo la notte nel mio lavoro, perché faccio anche il lavoro notturno come sorveglianza comunque e per cui avevo la possibilità di camminare parecchio, insomma. E lì ho visto in effetti che la camminata era più lunga, più sciolta, però insomma ero sempre un po' scettica, perché mi sembrava un po'... Cioè ancora non ci credevo che una cosa meccanica facesse di più delle pastille, insomma. All'inizio le usavo una volta solo e devo dire che dopo cinque giorni praticamente ritornavo indietro, insomma ogni tanto la gamba mi frenava, mentre adesso le uso due volte a settimana e devo dire che sono contenta. A livello farmacologico ho diminuito la levodopa, che è quella più importante, e da quattro che ne prendevo e sono arrivata a prenderne due e mezzo, insomma. Ho diminuito i farmaci, per cui anche tutti gli effetti collaterali, la nausea, la sonnolenza e tutto quello che gli va dietro, insomma. Quando uso gondola ho visto una grande differenza, insomma perché appunto essendo comunque un'ex ballerina e un'ex sportiva mi sono ritrovata praticamente a fare poco e niente, mentre da quando uso gondola mi sento più sciolta nei movimenti, più sicura nei movimenti, mentre prima avevo paura a camminare, in particolare per la strada, perché essendoci buche avevo sempre paura di cadere, mentre adesso cammino tranquilla guardando in avanti, mentre prima guardavo sempre per terra, insomma.